No capirai, io so fare il giocoliere con se birilli se mi fanno usare un monociclo Beh, se credi che sia così facile, perché non mi lanci qualcos'altro? Ma sei fuori? Che cosa ti viene in mente? Non puoi lanciarmi un bambino! Piantano di lanciare i bambini! Hai bambini? Oh, non va, non cavolo, come mi piace il sabato!